Simone, com'è andata la masterclass che è stata organizzata dal Cinalci, ma dove il docente sei stato tu? Sì, è dalla Calabria Film Commission, anche alla compagnia dello Ionion. E' andata abbastanza bene, sono stati due giorni intensive sul mestiere dell'attore, sulla recitazione cinematografica. Ho visto che c'è stata parecchia attenzione, i ragazzi partecipanti sono stati veramente molto coinvolti, avevano voglia di fare, per esempio erano previste delle pause, non abbiamo fatto pause, sono stati due giorni, dall'inizio alla fine senza nemmeno una pausa, perché erano veramente tanto coinvolti, quindi questa cosa mi ha fatto molto piacere, vuol dire che c'è interesse in questo territorio. Più giovani o anche persone adulte? Il ventaglio è stato vario, c'erano dai 13 anni, 14 anni, fino ai 40 anni, mettiamo così, il ventaglio è stato più o meno quello. C'erano state anche adesioni di gente un po' più grande, poi c'erano state una serie di vicissitudini che hanno alternato le due giornate con differenti partecipanti, però in realtà il ventaglio era appositamente voluto, molto vario, per creare anche delle situazioni molto verosimili per quanto riguarda il cinema, quindi situazioni tra genitori, figli, nipoti e varie tipologie di età. Quindi una fiction? No, non una fiction, che in realtà il termine fiction viene utilizzato nel cinema per intendere il cinema di finzione, perché il cinema si divide in fiction e documentari, quindi fiction in realtà è un termine giusto per chi si cimenta nella recitazione. Però sì, abbiamo fatto delle scene, abbiamo lavorato su tante cose, quindi abbiamo lavorato in realtà su... è stata un'infarinatura generale, un po' di, come dire, dare delle piccole dritte, delle piccole accortezze per chi vuole fare questo mestiere, ovviamente in due giorni, come ho ripetuto più volte durante la Masterclass, non si diventa attori, però diciamo che hanno un po' assaggiato come si potrebbe lavorare per lavorare su un personaggio e poi lavorare nel cinema, insomma. Piccoli passi, insomma, per chi ha voglia di avviarsi in una strada come quella del cinema e quindi della recitazione, piccoli passi servono, perché in realtà si comincia a capire questo mondo che è un mondo completamente diverso da quello che noi siamo quotidianamente. Sì, è un mondo verosimile, si dice, quindi è reale, è vero, perché quello che vediamo, le storie che raccontiamo, quelle che osserviamo, sono storie vere.